buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video attraverso al tecoblova.com se non sei già iscritto al canale ti invito a iscriverti per rimanere aggiornati su ultimi video di notte tecnologiche oggi scopriremo insieme una funzione molto utile dell'app keynote app keynote se non sai cos'è in realtà è molto semplice è l'equivalente di powerpoint per windows ma in questo caso l'app keynote è di apple sostanzialmente è possibile creare delle presentazioni animate e oggi vedremo come creare delle presentazioni e trasformarle in video funzione molto utile che ti permette di creare dei video con un programma molto semplice senza dover ricorrere ad applicazioni più complesse vediamo quindi come fare partiamo sempre passo per passo per poi arrivare al risultato finale che verrà salvato all'interno dell'applicazione foto in formato video oltre che in formato video è possibile salvarlo anche in formato gif chiaramente la presentazione deve avere in quest'ultimo caso un tempo molto ridotto vediamo quindi come fare per prima cosa scarica l'applicazione keynote se non l'hai presente sul tuo iphone o ipad dato che questa guida è disponibile ed è valida sia per iphone che per ipad solo che ti consiglio di utilizzare quest'app anche se fatta molto bene per iphone su ipad dato che lo schermo più ampio quindi più facile utilizzarla una volta scaricata cliccaci sopra e ti troverai questa schermata quindi clicca su crea presentazione e qua ci mostrerà queste tre voci scegli un tema nuova presentazione in vista struttura oppure nulla scegli un tema è la funzione più semplice di fatti cliccheremo su questo pulsante perché ci proporrà dei temi già preparati quindi già di default clicchiamo ad esempio su un tema a caso clicchiamo su questo ad esempio ti dico già che non farò una guida completa su come impostare una presentazione perché la vedremo in un altro video quindi mettiamo ad esempio ciao da tecnoblock.com qua mettiamo un secondo testo come stai e dopo creiamo una seconda diapositiva cliccando su più oppure clicchiamo su duplica così si tiene tutto quello che abbiamo impostato nella prima qua mettiamo ciao e qua mettiamo tutto bene giusto per fare un esempio a questo punto per creare un video è importante creare delle animazioni come si fa è molto semplice basterà cliccare qua e cliccare su animazione abbiamo animazione in entrata e qua possiamo scegliere i vari tipi di animazioni fatto questo azione quindi cosa fa e qua ci mostrerà il dettaglio e infine clicchiamoci su animazione in uscita allontanamento a questo punto clicchiamo su play qua è al tocco e vediamo ciò che appare come vedi c'è un'animazione in entrata una intermedia e una d'uscita per creare un video chiaramente non va bene il tocco ma dobbiamo ricliccare qua perché siamo all'interno delle animazioni clicchiamo su animazione in entrata inizio dobbiamo mettere dopo la transizione qua è possibile impostare ritardo ma tutto ciò lo vedremo in un altro video più specifico ok allontanamento in uscita inizio sempre dopo l'animazione 2 e qua sempre dopo l'animazione 1 stessa cosa facciamo qua sarò veloce così non vi faccio perdere tempo clicca su azione ok aggiungi transizione in questo caso tra una diapositiva e l'altra mettiamo ad esempio questa ok inizio automaticamente riclicchiamo sul testo verifichiamo dopo la transizione questa dobbiamo mettere dopo l'animazione 3 anche questa dopo l'animazione 4 e qua mettiamo una in uscita e anche in questo caso inizio dopo l'animazione 5 proseguiamo aggiungi transizione qua mettiamo un'altra clicchiamo sul testo impostiamo tastiera ok qua azione ridimensiona e infine animazione in uscita allontanamento dopo rivediamo tutte le impostazioni perché dobbiamo modificare quella relativa al tocco perché non ci va bene in un video quindi ok allontanamento adesso riverifichiamo tutto quindi clicchiamo sulla voce inizio dopo la transizione qua dopo l'animazione 1 infine dopo l'animazione 2 qua facciamo lo stesso dopo l'animazione 3 dopo l'animazione 4 e qua dopo l'animazione 5 perché ho fatto ciò? perché chiaramente in un video deve essere tutto automatizzato non puoi pretendere che al tocco venga creato un video quindi adesso mandiamo clicchiamo su fine e mandiamo in play questa sarà la nostra presentazione ok vedi tutte le animazioni entrata uscita passo alla diapositiva successiva qua ci sarà un testo uscita adesso entrata fase intermedia è uscita quindi questo sarà il nostro video come fare? basterà cliccare su questi tre puntini chiaramente potrai aggiungere una colonna sonora ulteriori diapositive ulteriori immagini ulteriori simboli per creare appunto una presentazione completa a questo punto quindi clicca sui tre puntini clicca su esporta e qua come vedi avrai tutta una serie di possibilità quindi pdf powerpoint filmato gif animata immagini tema keynote pdf se vuoi un file pdf delle tue diapositive powerpoint se vuoi esportarlo su powerpoint chiaramente sarà il formato di powerpoint quindi è abbastanza compatibile non è compatibile del tutto però comunque è un file con estensione di powerpoint filmato quello che cliccheremo gif animata come ti ho detto deve essere chiaramente breve altrimenti è tutt'altro con una gif immagini se vuoi importare se vuoi esportare le singole immagini tema keynote se vuoi esportare il tema quindi clicchiamo su filmato ora ci darà tutta una serie di impostazioni quindi risoluzione massima 4k 1080 o 420p frequenza 30 fotogrammi per secondo oppure è possibile selezionare altri impostazioni va benissimo così intervallo puoi selezionare l'intervallo delle diapositive noi vogliamo esportare tutto quindi va bene così qua è possibile applicare ulteriori impostazioni clicchiamo quindi su esporta attendiamo qualche secondo chiaramente il tempo varia in base alla grandezza del file ti ricordo però di non chiudere la schermata altrimenti ti andrà in errore quindi crea filmata adesso dovremmo dirgli di salvarlo sulla libreria foto condividi e quindi salva video ti consiglio di non esportarlo direttamente su imovie se devi creare un video perché ogni tanto viene perso quindi salva video ok e fin qua ci siamo ora chiudiamo questa applicazione e andiamo su foto eccoci qua sulle foto e come vedi la tua presentazione in keynote è stata esportata in un video video che potrai poi editare a tuo piacimento bene amici anche questo video è stato concluso se ti è piaciuto aggiungi un mi piace iscriviti al canale e al prossimo video